Va avanti ormai da 14 anni la battaglia di un intero territorio contro il progetto di estrazione del gas in località Colle Santo nel territorio comunale di Bomba, dove insiste l'invaso artificiale per la produzione di energia idroelettrica, conosciuto come lago di Bomba. L'ultima istanza di sfruttamento del giacimento gassoso, contestato da un intero territorio anche per ragioni di sicurezza alla luce dell'instabilità idrogeologica che interessa l'area, è stata presentata dalla LN Energy, contro la quale l'amministrazione comunale di Bomba ha fatto richiesta al Ministero dell'Ambiente di rigetto definitivo dell'istanza. Di progetto pericoloso per l'intero territorio, senza alcun beneficio per le popolazioni, parla il Tg8 Massimo Colonna, consigliere comunale di Bomba, che riassume le ragioni dell'avversità del piano presentato dalla LN Energy. A gennaio la LN Energy ha presentato il quarto progetto, con valutazione di impatto ambientale presentato al Ministero dell'Ambiente. In questa valutazione manca tutta la parte inerente ai problemi idrogeologici e di subsidenza e sismicità indotta dall'estrazione del gas. Questa parte, la società proponente, la rimanda ad un documento che doveva essere presentato entro fine marzo e noi sappiamo che è stato commissionato uno studio all'Università d'Annunzio. Poiché questo documento non è stato presentato, l'amministrazione comunale ha chiesto l'immediato rigetto dell'istanza. Invitiamo il professor Miccadei, che è il responsabile scientifico di questa ricerca, a venire a Bomba ad illustrarci gli esiti delle loro ricerche. Cosa contestate ormai da anni a questo progetto? Tutti questi progetti presentano delle tecnologie che non sono assolutamente all'avanguardia. Storicamente quel giacimento non è stato utilizzato perché è presente sotto il lago della centrale idroelettrica di Altino e può generare dei grossi rischi idrogeologici. Questo è il motivo per cui storicamente Agip non ha sfruttato quel giacimento ed è il motivo per cui i progetti di questa società statunitense sono stati sempre bocciati in passato. È un progetto che non ha nulla a che vedere con l'economia di quel territorio, di tutte le attività proprio locali legate al peperone dolce, di altino, al miele, insomma a tutte le produzioni locali. Lì si produce da più di 60 anni energia pulita da fonte rinnovabile, che è quella della grande derivazione per uso idroelettrico Sant'Angelo. Per cui come territorio il nostro contributo all'energia lo diamo da tanti anni e fare su quello stesso territorio un'estrazione del gas in presenza di numerose criticità idrogeologiche è una follia pura. È recentissimo a bomba il finanziamento di un milione e mezzo di euro per combattere il rischio idrogeologico in considerazione delle numerose frane attive presenti sul territorio e il progetto di estrazione del gas non farebbe che aggravare una simile situazione. Ne si può parlare di benefici legati alle royalties che in Italia sulla produzione di energia da fonti fossili sono bassissime, continua Massimo Colonna, che sottolinea anche l'assenza di prospettive occupazionali per il territorio, trattandosi di un impianto che, una volta entrato in funzione, si gestirebbe con ben poco personale. Inizialmente abbiamo valutato la cosa perché non siamo stati affetti dalla sindrome del NIMPI, non è che noi non lo volevamo a prescindere. L'estrazione del gas non ci dà alcun tipo di beneficio, per cui se anche questo studio commissionato, come tutti quelli precedenti di Agip, afferma che lì quel tipo di progetto non si può fare, chiediamo al Ministero che il giacimento venga dichiarato non coltivabile.